Buongiorno, sono Giorgio Cevasco, Presidente della sezione Liguria della Società Chimica Italiana e vorrei parlarvi di mascherine e del loro uso, sperando di raggiungere il pubblico più ampio possibile. Le mascherine chirurgiche, queste, sono utilizzate in ambito sanitario per proteggere il paziente da eventuali patogeni presenti nelle vie respiratorie del personale medico. Proteggono il paziente, quindi, ma non chi le indossa. All'inizio della pandemia erano introvabili, ma oggi l'approvvigionamento è ripreso e l'uso da parte di tutti di queste mascherine, in modo corretto, coprendo il naso e non calandosene sulla gola per parlare, sarebbe un validissimo contrasto alla diffusione di Covid-19. Ci sono poi altre mascherine, tipo queste, che sono professionali, che sono caratterizzate da sigle FFP1, 2 oppure 3 e sono dispositivi di protezione individuale da tempo usati dai lavoratori come marmisti, cavatori, eccetera, che operano in ambienti contaminati da polveri fini, molto pericolose, ma che vengono efficacemente filtrate da queste mascherine. Senza entrare nei dettagli tecnici, il coronavirus responsabile del Covid-19 ha dimensioni tale da essere bloccato completamente e dalle FFP3, in modo completo e totale. Proteggono quindi efficacemente dal virus chi indossa queste mascherine. Le FFP2 sono meno efficaci, ma comunque garantiscono una protezione ragionevole. come ho detto, queste mascherine sono dispositivi di protezione individuale che vengono usati da lavoratori sottoposti anche a sforzi notevoli e l'uso di questi dispositivi rende perciò difficile la respirazione in queste condizioni. Per ovviare a ciò, sono state realizzate delle mascherine, sempre parlando di FFP, dotate di una valvola a membrana unidirezionale che facilita la fase di espirazione e rendendo perciò meno faticoso il lavoro. Queste valvole sono molto evidenti e si trovano sulla parte anteriore o laterale di queste mascherine, una sorta di tappo di plastica ben evidente. Come detto, queste mascherine proteggono efficacemente nella fase di ispirazione, ma non filtrano nulla nella fase di ispirazione. Quindi, se chi le indossa è affetto da Covid-19, asintomatico, presintomatico, sintomatico che sia, diffonde liberamente nell'aria il virus, a meno che non indossi anche una mascherina chirurgica. Quindi, occorre fare molta attenzione quando si hanno contatti con persone che indossano questo tipo di maschera con valvola e mantenere sempre una distanza di sicurezza. E comunque non fidarsi, il vostro interlocutore è protetto da voi, ma voi non lo siete da lui, a meno che non indossiate anche voi la mascherina. Spero di essere stato chiaro e soprattutto di aver fornito un piccolo aiuto per capire meglio come stanno le cose. Grazie.